Buonasera ladies and gentlemen, permettete che mi presenti, io sono l'autore della Montagna Incantata. E' Thomas Mann in persona ad accoglierci all'ingresso del cimitero germanico della Futa, lui autore tedesco che nel suo capolavoro La Montagna Incantata parlava dell'orrore della Prima Guerra Mondiale. Sono passati cento anni esatti dalla pubblicazione del romanzo e la compagnia Archivio Z ha deciso di portare le vicende del sanatorio Berghof di Davos in Svizzera direttamente sull'Appennino Toscano, dove la memoria della Seconda Guerra Mondiale ha lasciato il segno in questa che è un'altra Montagna Incantata. Noi abbiamo eletto questo luogo a scenografia di senso, una scenografia che è un'architettura immensa, che ospita più di 30.000 caduti. Intorno a noi c'è una natura apparentemente pacificata, ma è un paesaggio in qualche modo contaminato. Noi speriamo che con il nostro lavoro culturale e teatrale in qualche modo contribuiamo a decontaminare questo luogo. Bisogna capire qual è la cultura di pace che vogliamo portare avanti, altrimenti queste tombe che vorrebbero essere un monito all'Europa e al mondo non lo sono più. Diventano appunto qualcosa che rimane soltanto qui, incantato, fermo, ma che non insegna nulla. Uno spettacolo itinerante che conduce gli spettatori in una processione laica tra le 30.000 lapidi dei caduti della Wehrmacht. Da oltre 20 anni Archivio Z sceglie questo luogo come location ideale per recitare e far riflettere, registrando un successo di pubblico crescente. Sarebbe troppo facile però lavorare soltanto nei luoghi in cui ti puoi riconoscere nei caduti, nei cosiddetti buoni, in coloro che non avevano nessuna colpa. Il lavoro che noi vogliamo fare qui è più complesso, più complicato. Vogliamo interrogarci sull'animo umano e quindi sul concetto di buono o cattivo. Il nostro mondo che ha perso molto della sacralità delle cose ritrova in qualche modo qualcosa di molto forte, di molto emozionante. Per questo penso che la gente comunque nell'arco di 20 anni aumenti di anno in anno e continui in qualche modo a tornare.